Ehi là, ciao a tutti! Questa è la mia nuova lettura, Paolo e Francesca, di Matteo Struncul. Scusa Matteo, ma il cognome non riesco a pronunciarlo proprio bene. È un libro super carinissimo. Come l'ho scoperto? Allora, sono andata al supermercato, l'ho scoperto per caso, era scontato, lo prendo perché già l'avevo visto su TikTok, Instagram, anche in libreria, mi interessava, era scontato, l'ho preso. Poi su Instagram ho scoperto un gruppo che leggeva proprio questo libro. Quindi sono felice della mia scelta e presto mi dirò com'è. Inizio la prima parte, è super fantastica, proprio da leggere. A presto, ciao! Ciao!